Davide Pian Pian, un 24enne morto nel pomeriggio di ieri nei boschi vicino ad Assisi dove stava partecipando a una battuta di caccia, il dramma nella zona Fosso delle carceri vicino al monte Subasio. Il giovane stava partecipando come detto a una battuta di caccia al cinghiale quando è stato colpito da un colpo in pieno petto, il 24enne secondo quanto si apprende era solo nonostante questo tipo di caccia sia solitamente organizzata a squadre, a dare l'allarme chiamando un'ambulanza sono stati alcuni residenti della zona, quando i soccorsi sono arrivati ormai per il giovane era troppo tardi, ora resta da capire se il colpo esploso sia partito dal suo fucile o da quello di un altro cacciatore che ha scambiato il giovane per un animale.